Buonasera da Paola Giunti, grazie di essere venuti nonostante lo sciopero dei mezzi pubblici, quindi vale doppia la vostra presenza qui, in più piove da una settimana, quindi vi siamo particolarmente grati che siate venuti a sentire questa conferenza, anche perché ne vale proprio la pena, non che le altre volte non ne valesse la pena, ma Lorenzo Ferrero, anzi il maestro Lorenzo Ferrero, compositore di nascita torinese, meriterebbe una conferenza su di lui. Per ripassare la sua vita artistica ho guardato su Wikipedia e ci sono 12 pagine, quindi veramente ne vorrei partire per presentarlo da una citazione del New Grove, che è il dizionario dell'opera più conosciuta ed autorevole, in cui descrive Lorenzo Ferrero come il compositore di opera di maggior successo della sua generazione in Italia. Solo per ricordarvi alcuni dei suoi lavori, diciamo che ha scritto, poi lui mi corregge perché io ho guardato su Wikipedia, ci conosciamo da molti anni, quindi molte, anzi praticamente tutte le ho sentite, viste, eccetera, però tanto per darvi un'idea, tanto per darvi un'idea perché Wikipedia riempie dodici pagine. Ha scritto dodici opere, tra le quali diciamo che sicuramente ricorderete Marilyn, La figlia del mago, Salvatore Giuliano e la conquista, tra le più recenti, nonché Risorgimento, che è stata fatta nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Tra composizioni per orchestra, brani da camera, composizioni per piano e organo, sono circa un centinaio, quindi essendo che è qua ed è tuttora giovanissimo, ha iniziato da molto presto. Dopodiché ha anche svolto attività manageriali, quindi non solo artistiche, è stato direttore artistico dell'Unione musicale, quindi molti di voi lo ricorderanno, è stato direttore artistico dell'Arena di Verona del Festival Puccini e con Puccini ha un rapporto sicuramente particolare, tant'è che l'abbiamo chiamato per presentare Turandotte, anche se sarebbe in grado ovviamente di presentare anche molte altre opere. Lorenzo Ferrero ha finito di orchestrare la rondine, che venne la terza versione della rondine, giusto? La cui partitura originale andò perduta nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e il Teatro Reggio gli commissionò nel 1994 l'orchestrazione di questa terza versione. Quindi sicuramente con Puccini ha un rapporto privilegiato, se così possiamo dire, Lorenzo e questa sera ci presenterà Turandotte che andrà in scena al Teatro Reggio a partire dal 12 febbraio con la regia di Giuliano Montaldo, un allestimento imponente come richiede l'opera, almeno come richiede la nostra fantasia dell'opera perché è una Pechino al tempo delle favole, quindi non so quanti sono stati a Pechino. Io ho avuto la fortuna di andarci e quando sono entrata la città proibita ovviamente ho detto ah no ma è questa la Pechino della Turandotte, chissà qual era appunto la Pechino della Turandotte. Lascio la parola a Lorenzo Ferrero e quindi non so poi quanti di voi verranno a seguire l'opera che peraltro ha fatto registrare un simpatico tutto esaurito, il teatro è molto contento quindi chi non ha i biglietti si deve rassegnare a fare delle lunghe code. Dirige il maestro Pinkas Steinberg che in questi giorni sta ottenendo anche un grandissimo successo con Madama Butterfly che è andata in scena ieri e il primo febbraio e ieri in diretta nei cinema. E andrà, approfitto solo e poi ti lascio la parola, per dire che Madama Butterfly andrà in onda su Ray 5 il 13 febbraio alle 21.15. Lo spot è finito, lascio la parola a Lorenzo Ferrero per le cose serie. Grazie. Grazie. Grazie, lo spot era perfetto, completo. Mi fa piacere in modo particolare sia stato ricordato questo completamento dell'orchestrazione, la terza versione di Rondine che tra l'altro ha avuto poi dopo la sua prima a Reggio anche una certa fortuna e ben due diverse incisioni discografiche e una video, quella video fatta alla Washington Opera con la regia di Marta Domingo. A me Puccini è sempre piaciuto, però naturalmente fare quel lavoro lì mi ha portato a, come dire, come se l'avessi conosciuto personalmente, come se avessi cercato di prendere delle lezioni da lui per scrivere quelle parti, dato che lui poi l'orchestrava magistralmente per scrivere quelle parti che mancavano dalla terza versione. Non a caso è stato detto che bisogna, giustamente detto, che bisogna un po' immaginarla Turandò, perché ho fatto anch'io con Montaldo una Turandò quando ero all'Arena di Verona e è stato un bellissimo spettacolo, molto spettacolare, molto favolistico, molto reinventato ovviamente, però penso che ci sono, e poi ne parleremo, così tanti punti di vista da cui si può vedere Turandò che, come dire, vedere un solo allestimento non basta, bisogna immaginarne almeno tre completamente diversi che vedono l'opera da una prospettiva diversa. Perché, e qui cominciamo, entriamo nel merito, come sapete Puccini era un po', era più che un operista, potremmo dire era un regista, come un regista cinematografico, un regista cinematografico come Kubrick, che non ha mai fatto un film uguale all'altro. Da un certo punto in avanti la sua vita, da Tosca, Madame Butterfly, eccetera. Ha cercato ogni volta di reinventare il palcoscenico, di reinventare il mondo dell'opera, anche il modo di raccontare in alcuni casi, e di creare delle atmosfere di volta in volta, che possono essere di volta in volta le atmosfere giapponesi di Madame Butterfly, di volta in volta le atmosfere western di Fanciulla del West, le atmosfere parigine del tabarro o della clausura, del convento di Suor Angelica, e anche un certo ambiente, diciamo, parigino belle époque, nella Rondine. E quindi anche nella Turandò si è posto un problema di ambientazione. E questo è uno dei primi elementi di cui dobbiamo tenere conto, e poi parleremo di quali strumenti ha usato per questa ambientazione. Originariamente, come credo tutti sappiano, Turandò, o Turandot, come avrebbe detto Puccini, essendo lucchese, era una favola di Gozzi, che tra l'altro è arrivata tramite Schiller al libretto creato da Adami, autore anche di Tabarro, coautore di Rondine, ha collaborato anche con Forzano, e Simoni, che, guarda caso, è stato poi anche uno sceneggiatore cinematografico. Dicevo, questo testo è una favola, una favola talmente favola che confonde il mondo cinese con il mondo, per esempio, delle maschere della tradizione della commedia dell'arte italiana. C'era già stata anche una precedente Turandò di Busoni nel 1906, che è piuttosto fedele alla lettera della narrazione di Gozzi. Come spesso succedeva a Puccini, il punto di partenza era piuttosto lontano dal punto d'arrivo, e come documentano le sue lettere, dal punto di partenza al punto d'arrivo c'era un grande lavorio con i librettisti, ai quali lui indicava con estrema precisione che cosa voleva, che cosa voleva fare, che cosa voleva raccontare. Che cosa interessa raccontare a Puccini con Turandò? Non è chiaro e forse a un certo punto della sua vita, cioè verso la fine, non era chiaro più nemmeno a lui, e vedremo perché, cioè vedremo perché in un certo senso si è cacciato in un guaio narrativo. Infatti se noi prendiamo il primo atto, troviamo una situazione, diciamo, che non presenta particolari incognite, diciamo così. E' un atto nel quale vediamo arrivare nella capitale cinese dei pretendenti alla mano di questa principessa. Ovviamente si tratta di pretendenti di nobile stirpe, anche perché ovviamente la mano della principessa significa, con qualche probabilità, anche un futuro trono. Questa principessa però ha delle sue ragioni, che apprenderemo più tardi, per essere contraria a qualsiasi tipo di unione matrimoniale. E anche, diciamo, che ha un certo odio per gli uomini, che le deriva da un particolare affetto per una sua ava, che con gli uomini era stata particolarmente sfortunata. Naturalmente ci sono questi nobili che si presentano lì per poter partecipare a questa gara matrimoniale e sanno che, suonando un colpo di gong, danno il segnale della loro disponibilità a sottoporsi a degli indovinelli che Turandò fa e che nessuno, fino a quel momento, è riuscito a risolvere. Fra questi personaggi troviamo Calaf, che nella folla, tra l'altro, incontra suo padre Timur e il quale è anche cieco, quindi ha bisogno di assistenza. Oggi diremmo bisogno di una badante che si chiama Liu, la schiava. E in un primo tempo è piuttosto scandalizzato di quello che sta succedendo, perché proprio in quel momento si assiste all'esecuzione dell'ultimo che ci ha provato, cioè il Principe di Persia. Qui mi fermo per introdurre un elemento che è sicuramente il meno noto, ma forse il più importante, della partitura di Turandò, che sono due momenti di atmosfera, due momenti di atmosfera che sono, diciamo, abbastanza inediti per la musica di Puccini. Chiedo il primo ascolto, che è il Perché tarda la luna. Un momento corale di grande effetto, che deve qualche cosa, o viceversa, secondo alcuni musicologi, è l'impressionismo francese che deve qualcosa a Puccini. Comunque di grande atmosfera, di grande sapienza di scrittura orchestrale, anche se ovviamente non è un'aria famosa. Quelle le incontreremo più avanti. Le ultime parole sono Putin Pao, che è il nome del boia. Avete sentito un'atmosfera sicuramente molto particolare. Avete anche sicuramente sentito delle riminiscenze vaghe di atmosfere di Madame Butterfly, che è normale, perché Puccini utilizzava, poi approfondiamo questo tema, per creare l'ambientazione delle sue opere, secondo quel principio appunto di regia, di creare la giusta location, anche in senso musicale, per le sue opere. Utilizzava anche molte musiche originali, che si faceva mandare, musiche autentiche, diciamo, in questo caso della Cina, che comunque è, diciamo, dell'area culturale dell'estremo Oriente. Poi c'è un altro aspetto che invece è di ricerca, proprio di ricerca di qualcosa di inedito, per rendere delle atmosfere particolari, che sicuramente magari esistono nelle alcune tradizioni non italiane. Voi sapete benissimo che la favola, per esempio, non è nella tradizione italiana, il fantastico, non è nella tradizione operistica italiana, è molto più presente, ad esempio, nella tradizione operistica russa. Qui addirittura il Puccini deve fare parlare dei fantasmi. Sono i fantasmi dei, come dire, dei già giustiziati, che lo invitano a trovare il coraggio di provare a suonare il famoso gong. Anche perché Calaf è stato, dopo, come abbiamo detto, essersi un po' scandalizzato di quello che stava succedendo, ha visto Turandot ed è stato colpito dalla sua bellezza e quindi sta cambiando idea rispetto a quello che vuole fare. Questo è un inciso. Di solito le cantanti che interpretano Turandot saranno bravissime, sono tutto forche belle. Quindi lo sforzo di immaginazione che dobbiamo fare è già la Pechino da favola. e quelli che si fanno ammazzare per la donna più bella del mondo. Adesso, in realtà, le protagoniste saranno qua a Torino, non sono della stazza che di solito è delegata al ruolo di Turandot, ma mi ha sempre fatto veramente tre ridere e lo stupore. Ma caspita, a te non ti ha mai fatto questo effetto? Beh, sicuramente. Sicuramente, purtroppo c'è questo problema di stazza legato un po' almeno in gran parte alla tipologia vocale necessaria per cantare questo ruolo di soprano drammatico. Tra l'altro, non ho detto che questa incisione è un'incisione realizzata con l'Orchestra Radio di Monaco da Roberto Abbado e poi sentiremo anche qualche interprete, ma per il momento sentiamo questa cosa, perché uno dei tanti, come dire, misteri di Turandot, non solo i tre, gli indovinelli che fa lei, ma sono anche quelli che si è posto la musicologia, cioè come collochiamo quest'opera? La collochiamo come ultimo avamposto dell'opera ottocentesca o la collochiamo come la prima grande opera del Novecento, quindi la prima opera della modernità? Questo dibattito era particolarmente vivo negli anni Ottanta, adesso si è un po' perso, fortunatamente, perché in fondo era una questione oziosa, ci sono sicuramente in Puccini degli aspetti tremendamente ottocenteschi e degli aspetti incredibilmente moderni, come nella cosa che stiamo per sentire. E tra l'altro un episodio che mi è stato raccontato da un suo anzianissimo vicino di casa, di Torre del Lago, che era molto giovane quando Puccini stava lì, giovanissimo, e studiava musica, e nel momento stesso in cui Puccini sperimentava nuove formule armoniche, nuove soluzioni che già sentiamo, ad esempio in Madame Butterfly, ma anche prima, andava lì e gli diceva mi raccomando, qua rispetta le regole, non fare niente di strano, gli correggeva i compiti, e quindi cercando di dargli un'impronta armonica assolutamente ottocentesca al ragazzino che studiava, mentre lui invece faceva tutto il contrario, guardava avanti. Sono le normali contraddizioni di qualunque di qualunque compositore, tutti i grandi compositori guardano come Beethoven, per esempio, guardano allo stesso tempo indietro e avanti. sentiamo adesso questi fantasmi da seconda traccia. Dopo i fantasmi abbiamo sentito tre personaggi, su cui spenderemo qualche parola fra un momento, che sono ping pong pong. Questi tre personaggi sono uno degli aspetti più, per certi versi, difficili dell'opera. e forse onestamente bisogna riconoscere che non sono del tutto risolti, nel senso che nella favola di Gozzi sono dei personaggi delle maschere che fanno ridere. In Turandot non fanno ridere, sono piuttosto dei rappresentanti del cinismo del potere, sono dei ministri i quali eseguono con grande distacco il loro dovere, di volta in volta anche cercando di dare qualche buon consiglio, come per esempio quando verso la fine dell'opera cercano di invitare Calaf ad esistere dalla sfida che a sua volta ha lanciato a Turandot, cioè quella di indovinare il suo nome. Sono distaccati appunto dalla realtà e ce lo dicono ce lo dicono quando ci raccontano che sognano uno la sua casetta in campagna, l'altro insomma non sono dei come dire dei burocrati ministeriali senza particolare cuore, ma non per questo fanno fanno ridere. infatti io personalmente preferisco le regie che sottolineano questo aspetto piuttosto che l'aspetto buffo. Purtroppo l'aspetto buffo anche un po' forzato da parte di certi interpreti soprattutto fino a qualche anno fa era troppo presente nelle interpretazioni di Turandot. Ultimamente non è più così, però se voi ricordate o potete confrontare qualche esecuzione di Turandot di 20-30 anni fa vi ricorderete dei ping pong che magari non avevano neanche più la voce però cercavano con ogni modo di fare dei versi dei lazzi delle cose per strappare un sorriso al pubblico. In realtà dovrebbero piuttosto strappare al pubblico un certo un certo malessere un certo proprio per vedere come dire il il meccanismo il meccanismo del potere privo del sentimento privo persino del sentimento negativo e criticabile di di Turandot sono sono lì fanno fanno la loro parte e si limitano come dire a eseguire gli ordini quindi sono dei personaggi per certi versi anche un po' sinistri ma al di là di questi aspetti naturalmente abbiamo in Puccini abbiamo anche come dire il Puccini classico il Puccini che conosciamo il Puccini che c'è più familiare è tutto sommato il Puccini che amiamo cioè quello delle sue melodie che entrano così immediatamente nell'orecchio una delle prime che incontriamo è non piangere di U la situazione credo la sappiate tutti cioè a un certo punto l'U esprime tutti i suoi timori per quello che potrà succedere per effetto della decisione di Calaf di tentare la sorte con Turandot e e anche insomma fa presente un sentimento che lei prova per 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 Calaf la risposta di Calaf è una risposta molto gentile ma nello stesso tempo molto ferma e molto come si sarebbe detto una volta classista cioè dice serva sei e serva rimani anche se io una volta ti ho sorriso questo non vuol dire che tu dovessi o potessi coltivare delle speranze dato che c'è una forte differenza fra te e me io sono per quanto spodestato un principe e tu sei una schiava comunque glielo dice in maniera molto gentile nel famoso non piangere lui che adesso ascoltiamo da un tenore non molto conosciuto che si chiama Ben Hepner che fa parte del insieme a Eva Marton e Margaret Price della compagnia di canto della registrazione di cui ascoltiamo la maggior parte degli estratti grazie con questo piccolo cuore che fa riferimento involontario forse o forse volontario perché Puccini amava fare questi piccoli scherzi ad una lettera nella quale aveva descritto l'essenza delle sue tragedie dei suoi personaggi femminili come grandi tragedie in piccoli cuori noi troviamo il Puccini tradizionale uno dei problemi come vedremo della della storia del finale soprattutto di Turandot e capire come questo questa cosa questo ritorno del Puccini tradizionale benvenuto dal pubblico e in cuor suo probabilmente benvenuto anche da Puccini pur nel suo tentativo di creare nuovi orizzonti per l'opera poi si concilia con una qualche difficoltà col conseguito c'è un aspetto che vorrei sottolineare perché anticipando un poco un elemento del personaggio di Turandot che mi sembra non sia stato abbastanza messo in evidenza e cioè Timur e quindi di conseguenza Calaf sono tartari spodestati del loro del loro piccolo re piccolo grande regno ma anche l'antenata che aveva subito violenze e quindi aveva in qualche modo ispirato l'odio per l'altro sesso in Turandot era stata aveva subito questa violenza per mano dei tartari qui cosa sono questi tartari questi tartari sono più o meno quei popoli che circondano verso verso ovest la Cina e sono le popolazioni di lingua un ceppo vagamente imparentato col ceppo turco e questi quindi in qualche modo è come dire dietro Turandot c'è un conflitto in cui le parti si cambiano nel senso che i tartari di volta in volta magari conquistano la Cina riescono a invadere riescono a prendere il potere poi se ne devono andare poi a loro volta i cinesi rispotestano rispotestano dai loro dei loro possedimenti o dei loro regni quindi c'è un aspetto come dire un sottile sotterraneo aspetto politico anche in questo gioco che tra Calaf e Turandot che si risolve però con un armistizio diciamo perlomeno che è questo armistizio d'amore col quale si conclude l'opera adesso vorrei sottolineare un altro ed è il terzo terza componente musicale della costruzione di Turandot questa componente è l'uso anche massiccio che in parte abbiamo già sentito di musica originale cinese fra cui l'inno della dinastia King che è stata l'ultima dinastia a regnare sulla città proibita come tutti abbiamo visto nel film di Bertolucci ed è il momento in cui l'imperatore e qui bisogna dire Puccini ha un'idea geniale cioè quella di creare attraverso una voce flebile il senso di estrema distanza fra noi e l'imperatore cinese è quasi un'apparizione divina quella dell'imperatore la sua voce si sente appena dobbiamo fare uno sforzo come se andassimo a consultare un oracolo e l'imperatore dice di essere costretto da un giuramento fatto a Turandò a rispettarlo e quindi sottoporre i candidati alle prove a cui saranno sottoposti sulle prove non mi dilungo nel senso che sono tre indovinelli diciamo ai quali Calaf dà in tre casi la risposta giusta con gran dispetto di Turandò e quindi crea una situazione di impasse perché Turandò dice vabbè ha indovinate ma non mi sposo lo stesso allora lui tenta l'ultima carta che poi sarà poi la carta vincente quella dice va bene io sono voglio essere generoso voglio far vedere che non ero uno come l'antenato quello là con il quale aveva a che fare la tua Ava e ti voglio dare una chance devi indovinare il mio nome tra l'altro questa storia del nome è quasi diciamo un colpo di fortuna perché all'inizio dell'opera lui aveva detto al padre non dire forte il mio nome perché sai qui potrebbero dato che siamo stati spodestati eccetera potrebbero esserci dei nemici per cui meglio che non dire forte il mio nome quindi lui può contare sul fatto che il suo nome non sia conosciuto e anche insomma evidentemente all'epoca non chiedevano i documenti per partecipare ad una gara di tale importanza e quindi lui infatti partecipa a tutta la competizione diciamo risponde a tutti gli indovinelli senza neanche dire io sono il tal dei tali e sentiamo quindi adesso questa questa pagina molto importante per il suo per la forte presenza di musica come dire originale cinese che è appunto il momento in cui l'imperatore Altum dice un giuramento atroce mi costringe favore ecco avete sentito un attimo prima dell'ultimo accordo un colpo di gong per darvi la misura della cura con la quale Puccini ha lavorato alla ricostruzione anche sonora del mondo cinese per Turandò ha fatto costruire da una ditta italiana che è tuttora esistente 13 gong intonati quindi un'ottava più una nota che servono per appunto in vari in vari momenti in vari momenti dell'opera usati da soli o in combinazione con altri strumenti normalmente se un teatro non possiede questi strumenti li può noleggiare insieme alla partitura e alle parti d'orchestra e sono caratterizzati da un suono molto particolare appunto fatto per cioè insomma la differenza tra gong e tam tam che i tam tam fanno più o meno lo stesso tra virgolette rumore ma non è intonato mentre i gong invece sono intonati nota per nota ci sono comunque anche i grandi tam tam eccetera e un sacco tra l'altro di strumenti a percussione un xilofono per esempio che era abbastanza una novità per i tempi e tanti altri piccoli strumenti più piccoli campanellini eccetera una serie di cose che si arrivano a creare a creare questa atmosfera dunque siamo arrivati al momento in cui Calaf tenta la prova sappiamo già che la passa sappiamo già che dice generosamente si propone di dare un'ulteriore chance a Turandotte di indovinare il suo nome e quindi quando siamo all'inizio del terzo atto si scatena di tutto perché naturalmente Turandotte anche grazie al suo vasto apparato come dire governativo capitanato dai nostri tre ministri fa in modo che si cerchi da tutte le parti possibili qualcuno che sappia questo nome quindi non c'è permesso per nessuno di dormire nessun dorma non c'è permesso di dormire perché tutti devono essere pronti a stare a farsi in mente questo benedetto nome per Turandotte nel frattempo i nostri ministri cercano anche di convincere Calaf a lasciar perdere diceva beh tu hai vinto quindi probabilmente Turandotte non ti può far decapitare se tu scegli gli portano anche a vedere delle bellezze eccetera se tu scegli una di queste sono tutte nobilissime e ti accontenti risolvi serenamente il problema amici come prima e così non ci troviamo di fronte a questa tragedia e fanno anche capire questo ulteriore aggravio di lavoro per i nostri ministeri che devono scoprire come ti chiami rispetto a tutto ciò naturalmente la risposta di Calaf ben nota è no e per questa per questo particolare momento che è noto anche come romanza Nessun dorma ho scelto un interprete diverso da quelli che abbiamo sentito finora e cioè ho scelto Giuseppe Di Stefano la ragione è questa ultimamente noi abbiamo sentito molte interpretazioni di Nessun dorma come se chi le canta dovesse vincere le olimpiadi questo vincerò no è diventato una specie di adesso vado a fare il salto in lungo il salto con l'asta e batto tutti i record eccetera ma infatti nelle cronache sportive c'è spessissimo infatti ormai è diventato sì dal famoso concerto dei tre tenori questo Nessun dorma è diventato in realtà in realtà è una cosa che viene viene detta con una certa intimità cioè è lui che si fa forza è lui che dice questa ha ordinato che nessuno deve dormire per scoprire il mio nome ma io confido sul fatto che nessuno saprà il mio nome tra l'altro quando lui comincia a dire il nome mio nessuno saprà nell'orchestra questo è accompagnato da un tremolo dei violini cioè proprio una cosa che dà un senso di dire sì sono sicuro ma non al 100% per cui il vincerò nasce da un percorso interiore cioè da riprendere questo comando delle guardie all'inizio che dicono nessun norma fino a alla consapevolezza interiore della possibilità di farcela quindi è un percorso interiore non è una vittoria alle olimpiadi e da questo punto di vista di Stefano mi sembra un ottimo interprete posso farti una domanda a proposito degli strumenti prima citavi gong ad un ascolto così superficiale non dotto come il tuo la musica cinese ci sembra sempre un po' stonata o comunque con delle scale tonali diverse alle nostre Puccini la giusta un po' perché un po' ci sembra stonatiello ogni tanto la giusta la giusta la giusta onestamente non si pone neanche il problema come nessuno se lo poneva a quell'epoca diciamo in cui la musicologia l'etnomusicologia stava facendo i primi passi quindi il problema non si pone il materiale che lui usa che riceve dai suoi corrispondenzi è già già giustato in notazione occidentale e lui lo usa così la cosa interessante è che come sa chiunque abbia parlato con un giapponese di Madame Butterfly o con un cinese di Turandot la cosa non dà assolutamente fastidio ai come dire ai locals non dà assolutamente fastidio la differenza diciamo di intonazione su alcune note che c'è fra noi e loro grazie per la traccia cinque ecco avrete notato come Di Stefano dei tre in cielo sottolinea la progressione che c'è anche musicalmente nel senso che le note sono man mano più acute il primo vincerò è come dire ha un filo di insicurezza e poi progressivamente invece diventa più convinto c'è un aspetto che è abbastanza curioso l'osservazione che fa Calaf dice tu principessa hai ordinato a tutti di non dormire però anche tu non dormi perché stai lì ad aspettare di vedere che cosa succede quindi non sono solo io che sono qui preoccupato di cosa succederà anche tu hai le tue preoccupazioni che saranno sciolte dal mio bacio confida Calaf e qui su questo bacio si apre una parentesi che spero di non fare troppo lunga né troppo noiosa ma che è particolarmente importante per capire il senso che vogliamo dare a quest'opera Puccini è morto il 29 novembre del 24 come ben sa chi ogni tanto va in pellegrinaggio dalle parti di Torre del Lago perché il 29 novembre si dice tutti gli anni una messa in suffragio la prima di Turandò fu fatta il 25 aprile del 26 però alla prima di alla prima esecuzione diretta da Toscanini Toscanini si fermò nel momento in cui si fermava la partitura finita e orchestrata dal maestro e quindi tutta la parte successiva cioè quando comincia il dialogo fra Calaf e Turandò e arriva il famoso bacio e poi insomma il finale grandioso il lieto fine con l'imperatore finalmente che si è tolto sto peso di tutti sti morti eccetera quindi questo grande festeggiamento ecco qua si aprono alcune questioni intanto alcune informazioni di fatto il completamento sulla base degli appunti lasciati da Puccini si viene affidato a Franco Alfano e viene eseguito la seconda sera alla seconda rappresentazione Alfano aveva fatto un finale in realtà molto più lungo di quello attuale che non soddisfaceva Toscanini che l'ha molto sforbiciato ed è quello diciamo quello corrente quello conosciuto sulla base di un libretto ovviamente di di Adami e Simoni che sul quale però negli ultimi anni almeno tre anni Puccini continuava a chiedere delle correzioni e delle revisioni perché a un certo punto Puccini si era convinto che l'opera poteva benissimo finire praticamente con la morte di Liu e di Timur e con il subito dopo nessun dorm ma in sostanza poteva tranquillamente finire lì poi si rende conto che questa soluzione probabilmente magari ci ha pensato per un attimo poi ci ha ripensato subito questa soluzione non era coerente non tanto con la con la storia perché in fondo ormai a quel punto è tutto chiaro quando si capisce che arriva l'alba e Turandò non sa il nome di Calaf che cos'altro può succedere si devono per forza sposare quindi poteva essere un'idea modernissima quella di lasciar capire come va a finire senza rappresentarlo però nello stesso tempo lui si era messo su una strada l'abbiamo detto quando abbiamo ricordato non piangere Liu si era messo su una strada che era ancora la vecchia buona strada puciniana nonché ottocentesca quindi le storie si dovevano raccontare fino alla fine non si potevano lasciare lì a metà come succede nella letteratura del novecento o come succede in certi in certi film in cui si lascia indovinare il finale però Puccini che era una persona di grande buon senso e di grande senso dell'umorismo aveva una qualche difficoltà ad immaginare che tutto potesse essere risolto dal famoso bacio di Calaf cioè che Calaf arrivasse lì e stampando in bocca a Turandot un bacio appassionato un po' come quelli che si vedono nei vecchi film in bianco e nero Clark Gable Neugen o Rodolfo Valentino tutto si risolvesse immediatamente Turandot dimenticasse tutto e si innamorasse di lui dicesse va bene sposiamoci facciamo tanti bambini diventerai l'imperatore della Cina tutto meraviglia quindi questa cosa il grande senso dell'umorismo che aveva Puccini gli impediva di credere del tutto a questa soluzione tanto che c'è un misterioso appunto che se passate da Torre del Lago visitate la Casa Natale potete vedere esposto un misterioso appunto che dice e poi Tristano che cosa vorrà dire questo appunto ci sono fiumi d'inchiostro però una cosa è certa che Puccini teneva sul suo pianoforte quasi costantemente la partitura del Tristano Isotta che era una delle sue opere preferite e voi sapete che cosa succede alla fine del Tristano che si amano sì ma muoiono uno nel sangue dell'altro quindi chissà che lui non pensasse a un finale decisamente inedito cioè non al lieto fine di al lieto fine che conosciamo ma un finale drammatico in cui questo amore si rivelava insieme possibile da un punto di vista come dire delle regole del gioco ma nello stesso tempo impossibile per la totale diversità la totale distanza mentale dei due protagonisti tutte queste sono soltanto speculazioni quello che è certo è che il libretto che noi possediamo parla di bacio eccetera eccetera cioè parla delle cose che sappiamo però non bisogna pensare che l'opera sia incompiuta perché Puccini è morta perché non ha potuta finire in realtà il punto in cui era arrivato il punto in cui è arrivato Toscanini alla prima la prima esecuzione era pronto almeno tre anni prima quindi il resto del tempo è passato a chiedersi come risolvere questo nodo che a lui non pareva risolto quali altre soluzioni ci sono c'è stata una soluzione di una musicologa americana che non è stata presa molto in considerazione ma che ha cercato di mettere insieme tutti gli appunti che Puccini aveva scritto cercando di dare un ordine coerente Alfano non ha utilizzato quasi tutti gli appunti di Puccini ma non tutti cioè diciamocelo pure francamente ha utilizzato quelli che ha capito e ha scartato quelli che non ha capito e non possiamo neanche dargli torto enni se teniamo conto che fra la morte di Puccini e l'andata in scena è passato neanche un anno quindi ha avuto pochissimo tempo per fare questo per scrivere questo finale c'è una terza una terza via che è la via che è stata tentata da Luciano Berio nella sua realizzazione del finale Luciano Berio lascia il bacio ma scrive un come dire un lungo intermezzo sinfonico che ovviamente presenta qualche difficoltà di essere messo in scena ma perlomeno ci permette di immaginare che non è come dire un effetto istantaneo il bacio di Calaf e la reazione di di Turandot ma che durante questo intermezzo sinfonico Turandot ripensa a tutto quello che ha fatto che ha pensato che ha creduto e poi alla fine in qualche modo arriva alla conclusione che si che in fondo può anche lei diventare una una donna normale e amare un uomo normale anzi più che meglio che normale perché è un principe e poi anche bravo e intelligente e generoso quindi questa può essere una una soluzione c'è un'altra diciamo più antica interpretazione e con la quale più o meno chiudiamo questa breve allora facciamo una domanda tu come l'avresti finita se ti avessero chiesto di finirla io l'avrei finita nel sangue io l'avrei finita col tristano sicuramente c'è l'invasione dei mongoli no anche senza anche senza invasione dei mongoli no sarebbe l'avresti chiusa con una tragedia intimista non con una grande tragedia no no non con una non con una non con una tragedia corale ma come una come appunto un un duetto d'amore impossibile come come è il duetto d'amore finale del tristano di cui in cui entrambi vivono un forte amore magari nel caso di Turandò è più l'amore per la memoria della sua hava e nel caso di Calaf è l'amore diretto per la persona di Turandò o per la bellezza di Turandò perché la persona non la conosce la conosce solo a distanza come una strega cattiva che fa indovinelli quindi anche Calaf deve ancora conoscerla però allora si dava per buono che la sola bellezza fisica fosse l'elemento determinante per scatenare tutto quanto quindi ecco io la vedo la vedo abbastanza secondo l'appunto che peraltro è di Puccini quindi è un pochino autorizzato sono a pensarlo e poi Tristano c'è un'altra interpretazione dicevo interessante che risale uno dei primi grandi interpreti critici di Puccini Mosco Karner che aveva come dire una visione anche un po' psicoanalitica delle cose secondo la quale ciò che è veramente determinante nel cambiare l'atteggiamento di Turandò non è il bacio ma è la morte di Liu perché la morte di Liu avviene diciamo dal punto di vista esteriore per un motivo cioè Liu ha paura della propria debolezza ha paura che magari sotto tortura il nome di Calaf le scappi e per evitare che questo le accada si si vota alla morte diciamo in qualche modo però è anche un suicidio per amore un suicidio per un amore impossibile e Turandò assiste a tutto questo e come dire vede un altro aspetto un'altra faccia di questo sentimento questo sentimento che il culto dell'Ava l'aveva sempre portato portata a vedere in senso assolutamente negativo ora invece addirittura Liu come sapete si rivolge a lei con le famose parole tu che di Gell sei cinta è quello che segue quindi il secondo questa interpretazione che forse possiamo accettare come quella che ci permette come dire di dormire più tranquilli sugli enigmi del finale o dei possibili finali di Turandò e appunto il fatto che ciò che sgela il cuore di Turandò non è tanto il bacio alla Clark Gable di di Calaf ma è il fatto di vedere ancora una volta come si risolve questa grande tragedia in un piccolo cuore e sentiamo come conclusione prossima traccia cantata da Margaret Price sempre Roberto Avado vi dirige vi ringrazio per l'ascolto io ringrazio Lorenzo Ferrero credo che sia stato molto interessante quello che abbiamo ascoltato oggi vi ricordo ancora solamente gli interpreti di Turandot tra l'altro c'è un cambio proprio sulla protagonista perché l'ise Lindstrom che era prevista è una notizia di oggi purtroppo non sta bene con questo tempaccio ci credo bene e quindi Ioanna Rusanen che debutta al Teatro Reggio interpreterà il ruolo diciamo alla prima e quindi con il primo cast che vede anche Roberto Aronica che debutta nel ruolo di Calaf Carmen Giannattasio nel ruolo di Liu come ho già detto dirige Pinca Steinberg la regia e questo famosissimo regista di cinema Giuliano Montaldo il 12 che è mercoledì alle ore 20 c'è anche la diretta su Radio 3 condotta come sempre dalla meravigliosa Susanna Franchi grazie alla prossima buona serata grazie a voi grazie a voi